E' una delle poche iniziative partite con largo anticipo, è una delle uniche a seguire le regole essenziali che un territorio turistico dovrebbe osservare per garantire una programmazione per tempo. S'apri anni 60 si riconferma un'opportunità per il territorio. Già definite le date, gli ospiti del 2015, il comitato organizzatore ha dato il via alla prevendita dei biglietti per i concerti. Il primo contratto chiuso sin dallo scorso novembre è stato quello con l'artista che può definirsi sicuramente un colpo da 90 per l'organizzazione, Massimo Ranieri. Lo showman è stato anche il più puntiglioso tra gli ospiti in programma. Un suo delegato infatti si è già recato a Sapri per visionare la location in cui si svolgerà lo spettacolo e dopo un attento esame e tutte le rassicurazioni tecniche sulla sicurezza ha dato il suo parere positivo. Sette saranno comunque le serate previste per quest'estate, otto gli ospiti. Si parte il 19 agosto con Gianluca Capozzi. Si tratta di un cantautore napoletano che ha lasciato il segno tra i neomelodici. Nel 2014 è uscito il suo nuovo album, Tra le cose che ho, ma sebbene giovanissimo, un legame con gli anni 60 ce l'ha. Gianluca è infatti nipote di Mario Trevi, storico interprete proprio in quell'epoca della canzone Partenopea. Lo stesso Trevi sarà ospite di Sapri anni 60 nella serata del 22 agosto, quando darà vita con la sua orchestra allo spettacolo napoletano Tuo fa l'americano. Ancora talenti campani, il 20 agosto sul palco di Sapri salirà a Salda Vinci, cantante e attore dalla lunga carriera alle spalle, riuscito a farsi conoscere dal grande pubblico anche per il suo terzo posto al Sanremo 2009 con Non riesco a farti innamorare. Il 21 agosto si comincerà a viaggiare sull'onda dei ricordi con Pupo, il cantautore che ha ormai affinato anche le sue doti di conduttore e intrattenitore. Il 23 agosto invece sarà la volta di Fausto Leali, la voce nera della canzone italiana. Il 24 sarà di scena la comicità, ancora una volta Partenopea, con i Ditelo voi e l'esilarante concerto di Tony Tammaro. Gran finale poi il 25 con Massimo Ragneri appunto e il suo spettacolo completo e attesissimo. Tutte le serate si terranno a partire dalle 22 presso il lungomare Italia. I ragazzi degli anni 60 ce l'hanno fatta anche quest'anno a completare un programma di tutto rispetto e a garantire un richiamo importante alla cittadina della spigolatrice.